ciao a tutti e bentornati sul canale del garante in questo nuovo video andiamo a vedere come scaricare utilizzare il foglio spettri ntc 2008 versione 1.0.3 per andare a prendere dei valori che ci saranno utili quindi possiamo andare su internet essenzialmente su google e scrivere spettri ntc versione 1.0.3 vedete ci sono diversi siti a cui potete far riferimento per scaricare il foglio un foglio excel adesso vi farò vedere io ne ho già uno insomma che utilizzo e adesso vi farò vedere come essenzialmente andare a muoverci proprio in questo ambiente perché noi abbiamo questo foglio excel che dobbiamo sapere utilizzare per tirare fuori tutti i valori che ci serviranno proprio per la progettazione quindi in questo caso vedete è questo foglio excel qui a volte c'è scritto abilità modifica ci sono dei blocchi adesso noi siamo nella intro quindi se cliccate qui o se cliccate qui da qualche altra parte vedete non vi fa fare niente andiamo quindi in fase 1 in fase 1 possiamo già vedere che c'è individuazione la pericolosità del sito e notiamo subito leggiamo sempre tutto ricerca per coordinate longitudine latitudine oppure ricerca per comune quindi già questa prima divisione ci fa capire che possiamo ricercare la zona o per comune oppure per coordinate quindi per esempio mettiamo toscana vedete si è già spostato il pallino mettiamo per esempio firenze mettiamo ancora firenze e vediamo cosa succede quindi qui possiamo mettere superficie rigata o ponderata e qui ci sono diverse frecce andiamo a vedere dove rimandano quindi grafici e gli spetti risposte a zoom un pochino vedete spetti risposte elastici per i periodi di ritorno tr di riferimento quindi partendo da un periodo di ritorno di 30 anni questo qui fino a un periodo di ritorno di 2475 anni qui ci sono scritte varie cose leggete ve le guardate un pochino anche qui per esempio il t che è il periodo in secondi e seg in g se in g comunità di misura andiamo quindi a vedere anche questi altri valori variabilità dei parametri zoom anche qui vedete valori dei parametri agf0 t star dc variabilità col periodo di ritorno tr quindi possiamo vedere che per un periodo di ritorno 30 50 fino a 2475 abbiamo il valore di ag che dovremmo andare a ricercare qui stessa cosa per f0 e per tristar dc quindi vediamo anche qui che ci sono delle note da leggere altrimenti andiamo sulle elaborazioni numeriche poiché queste erano quelle grafiche quelle che solitamente ci interessano di più sono queste zoomando andiamo a vedere i nostri parametri per la zona che abbiamo scelto quindi facciamo un attimo uno screenshot per vedere che se noi cambiamo zona effettivamente cambiano questi parametri quindi io direi di tornare indietro e mettere per esempio una regione come le marche ascoli piceno vedete comune mettiamo per esempio folignano e torniamo sulla tabella dei parametri in questo caso riaprendo il nostro file vediamo che i valori sono cambiati come vedete si parte da uno 0 0 57 a uno 0 0 47 fino a uno 0 313 mentre prima avevamo 0 221 quindi come potete vedere funziona questo fogli di excel andiamo a questo punto a vedere anche la ricerca per coordinate perché voi potreste avere le coordinate e come vedete qui non vi si apre nulla ma che succede succede che purtroppo dovete cliccare due volte qui o comunque un po di volte in questa zona dove vi compare il più perché non è che funzioni benissimo se poi vedete volete tornare alla ricerca per coordinate molto spesso questo programma si pianta un po e dovete magari ripartire da qui e andare a cercare la vostra regione insomma non è essenzialmente che non sia affetto da bug come vedete infatti anche qui noi per esempio se torniamo toscana provincia firenze adesso ci spostiamo pistoia e mettiamo per esempio santa lucia come vedete sembrano riuscire a spostare più la zona perché non riusciamo più a spostarci nella ricerca per comune e quindi succede un po di confusione questo appunto vedete ve lo volevo far vedere perché capita a volte quindi cosa succede dovete cliccare un pochino di volte qui per vedere di riuscire a farlo ritornare ma molto spesso c'è questo problema che non si riesce a ritornare indietro quindi a volte conviene chiudere l'applicazione riaprirla ed effettivamente poi ripartire dalla ricerca per il comune era per questo proprio che ho fatto questo video perché molto spesso è capitato anche a me di dire cavolo ma ora volevo tornare alla ricerca per comune ma non me lo fa più fare e purtroppo succede quindi diciamo che possiamo anche andare a vedere a questo punto la ricerca per coordinate quindi clicchiamo sempre qui due volte per far comparire magicamente queste cose mettiamoci per esempio in un 13 casuale proprio e poi alziamoci per esempio fino a 43 come vedete in questo caso ci siamo spostati magari un po troppo e allora mettiamo un 42 di prova e ricadiamo bene in italia a questo punto andiamo in fase 2 mettiamo vita nominale vn e coefficiente d'uso della costruzione chiaramente 51 qui questi altri valori come vedete non li potete cambiare ma possiamo andare sempre alle elaborazioni quindi grafici parametri azione possiamo zoomare quindi questo è per farvi vedere un pochino non vi sto a spiegare quelli che sono i valori questi ve li dovete comunque studiare cercare sull'ntc tabella parametri di azione in questo caso abbiamo direttamente gli stati limite rispetto a prima perché prima vi ricordate avevamo i tempi di ritorno se andiamo in fase 1 e la tabella dei parametri vedete avevamo i periodi tempi di ritorno vedete in questo caso qui ora noi in fase 2 abbiamo solamente slo sld slv e slc chiaramente sono gli stessi valori che avevamo qui per questi tempi di ritorno facciamo una prova quindi per vedere la bontà di quello che vi sto dicendo comunque verificatelo anche voi sempre quando vedete un video qualcosa fatelo nella verifica come sempre ecco vedete che qui per esempio per il slo che ha un tempo di ritorno di 30 anni avevamo 0059 2487 0279 sld 50 anni abbiamo questo 0074 2463 0293 che sono esattamente questi e anche gli altri quindi possiamo tornare indietro andiamo a questo punto in fase 3 in fase 3 come potete vedere possiamo mettere stato limite e decidere di mettere slo vedete che qui cambia possiamo mettere sld cambia di nuovo slv e anche slc quindi in base allo spettro che volete avere insomma lo stato limite che volete avere potete cambiarlo qui possiamo cambiare la categoria di sottosuolo per esempio mettendo una b possiamo cambiare la categoria topografica per esempio mettendo una t4 come vedete in questo caso non si sposta il grafico possiamo andare a cambiare il rapporto h su h come vedete qui h quota sito h altezza rilievo topografico questi valori invece non possono essere modificati qui abbiamo componente orizzontale spetto di progetto elastico che anche qui valori che non possono essere cambiati solamente il fattore q 0 e il fattore della regolarità in altezza se cliccate qui su info potete andare quindi a vedere anche i riferimenti normativi di quello che state facendo anche per esempio qui cliccate su info vedete e ci è spiegato tutto quindi diciamo questo foglio deve essere usato in maniera consapevole anche qui vedete ci sono le informazioni e i chiari riferimenti normativi adesso non vi saprei dire con certezza se tutti questi valori che erano nella ntc 2008 sono stati aggiornati nel nuovo ntc 2018 essenzialmente se non lo sapete fate una verifica fate un controllo quindi come vedete anche questa info che ho scoperto proprio adesso invece mentre vi facevo il video esistere effettivamente è un buon aiuto quindi andiamo a vedere poi lo spettro di progetto fattore 1,5 a questo punto possiamo andare nelle elaborazioni grafici degli spetti di risposta e zoomando vedete che abbiamo lo spettro di risposta per la slv componente orizzontale e verticale perché per lo stato limite slv perché avevamo scelto slv vediamo se mettiamo sld per esempio è cambiato andiamo nei grafici e anche qui vedete che ha aggiornato tutto andiamo parametri e punti dello spettro di risposta come vedete in questo caso qui abbiamo anche in automatico ci vengono dati i valori di tb tc td che sono i valori chiaramente questi li trovate anche questi in normativa studiatevi tutto quello che riguarda appunto questi parametri qua però sappiate c'è questo foglio di excel che potete utilizzare rimettiamo per esempio slv andiamo ai parametri degli spettri e vediamo che i valori sono questi vediamo se cambia qualcosa come validazione giusto per vederlo quindi torniamo qua riprendiamo il nostro screenshot e vedete che chiaramente i valori cambiano sia di questo sia per quanto riguarda anche i punti dello spettro di risposta come vedete qui abbiamo dei valori che sono questi qui scusate l'ho preso un po male e questi che sono i valori dell'os ld quindi diciamo che per questo video direi che è tutto studiatevi bene questo foglio di questo foglio di excel che può essere molto utile se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace cliccate sulla campanella su tutte per rimanere aggiornati con i prossimi video che usciranno e ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti